Siamo alla seconda, una Maiden per cavalli di tre anni sul miglio, sono in quindici, otto in prima, sette in seconda, sull'Issegal sale Giuseppe Luongo, cinque, sei, nove legate ai rapporti di scodria, così come dieci, tre, diciuma Pupa, per il momento numero tre, questa classic foto di Improda, la più gettonata, arretrato Uragano Jet numero otto che perde l'allineamento, inizia a prendere velocità la macchina, più che buona anche questo allineamento, via la macchina. Si lotta con Unigamb dal centro alle prese con Urania Jet di dentro Uniforce, insiste Urania a chiedere strada, si va in piegati, i due perfettamente apparigliati, si fa spazio la Jet, tredici e mezzo in lancio e Giorginio parcheggia con la sua lieva. Si completa la piegata con il tredici subito a tabellone con la lieva di Gallucci in chiaro vantaggio. 29-1, rimane a largo Ucilla Jet che si trascina il quindici di U una sola pull e viene via invece il quattordici di Ubaldo. Il Caterpillar non si fa pregare e spinge a largo di tutti. 44-1 battito e Ubaldo va a diretto contatto con Unigamb. Cavalli che affrontano la penultima curva, risponde ancora bene Unigamb. Mezzo miglio iniziale, nell'ordine dell'un minuto è proprio un asterisco e il figlio di Gamblik B apparigliato da Ubaldo. Ubaldo insiste, lotta, sta sopravvanzando l'avversario, chilometro notevole per la categoria 14-9 e l'uronometro di casa Caterpillar passa facile ai 500 finali. Cavalli che affrontano l'ultima curva, tenta la fuga a palo lontano Ubaldo che ha speso un patrimonio. 14-9, fanno uno ventinevotti tre quarti di miglio, viene via Usqualino San. Era il 12 a tabellone, anche il 10 a tabellone. Ubaldo per il momento mantiene il comando, viene via anche Maisto con unica di Ipa, con a largo il 13 di Upa, Usqualino San. Viene via anche il 3 di Uma Pupa, ma ormai il palo si sta avvicinando, non c'è più tempo per Ubaldo, mentre per il secondo Maisto con il numero 7, unico argina in proda, con Uma Pupa. 2-2, 1-16, 3, bella prestazione, si toglie l'etichetta di Maiden, questo uronometro sarà uno degli ultimi uronometro, guidato in modo garibaldino, ma tutto sommato alla perfezione, conscio delle possibilità del suo allievo dal Caterpillar, ovvero Giorgio D'Alessandro Senior, quota di 6,99. Come al solito mai Isto cura la piazza, in proda fa un numero, ma sarà ancora per la prossima. I numeri 14, 7, 3, probabile ufficio ci arrivo. Lino allo studio.